Buonasera a tutti e benvenuti bentornati di nuovo in un video del Great Harmony Siamo tornati di nuovo KV con l'episodio Ma questo non è il nostro server Ah no? Che vizio ma perché non c'è la buon vecchia? Perché era troppo grande per un portale solo A me piaceva comunque per un portale solo Era un po' sciupata Allora mi hanno detto Boh ci mettiamo una cosa più piccola Dato che per ora c'è una modalità sola Anche se quasi tu basa sulla Crackshot E niente questa è la piccolina che abbiamo fatto C'è infatti che c'è Abbiamo trovato Che c'è A me piace tantissimo Che uno entra qua tranquillamente Passa da qua E oggi vi lo dico già per quelli che si interessano Oggi l'episodio delle armi personali Quindi andate avanti E vedete un po' se è l'arma che mi avete inviato E non pete il cazzo perché le faccio vedere tutte Ma te ne ho vecchi di mesi da far vedere prima Quindi sti cazzo Niente una arriva qua Passa di qua Le regole Leggete le regole Non leggete Vi vedo eh Io vi vedete Asenca e vi viene a flammare Allora poi dopo qui c'è Vabbè la spiegazione No che poi mi dica che sono cattiva Ma te sei cattiva E vabbè questo Io sono un'ambiente un po' tanto brava Vabbè Qui sono tutte le spiegazioni della modalità Comandi vari Entriamo No Come no Dovevamo vedere Vabbè alla fine io lo faccio vedere Alla fine E vabbè questo non cambia un cazzo Ho leggermente abbellito qua Ho aggiunto due crate Poi aggiungere il resto E niente il resto è come abbiamo sempre visto Oltre al fatidico slash warp No lo facciamo vedere adesso Allora adesso Cos'è che devo far vedere? Le pulci Ah Vabbè facciamo vedere quando abbiamo preso le armi Così abbiamo tutto bello pronto E tutto quanto E niente quindi Non c'è ancora nel comando warp Che mi tocca farlo a mano Slash warp Personali Ed eccoci qua ragazzi Siamo tornati Nel La Come si dice Nello stanzione Dei volt Mi mancava che ci fossero Con tutti voi Non me li abbiamo fatti vedere Perché lì dovevamo un po' aggiornare Di sistemare L'abbiamo preferito tenervele nascosti Esatto E poi dire Uè Facciamo pesce o pesce No Non era proprio Perché? E uno si chiede Perché? Comunque ragazzi Oggi altre tre armi personali Due di queste saranno un set da tre No aspetta dirlo No lo dico Facciamo prima No Aspetta Facciamo prima questo Questui qui No chi era? Questo Prima arma di Z-Shock PvP Mi prendo Slash ones Faccio così Faccio questa Set zero Pum Eccolo qua Eccola qua Prima Perché non la posso prendere? Perché il cartello è vecchio Non funziona Leggi Allora Hai una passione? Ah no? Se non ce l'hai te la do io Dici che ranocchia le oscia dei tuoi nemici Proprio Leggi sgranocchia come l'ho letto io Non ce lo faccio Però posso usare così Guarda aspetta Una ciullatrice Io l'ho preso Scranocchia Yeee Scranocchiamo insieme Perché io collaboro ancora Cioè Tanto per sapere Collaboro ancora Comunque questa è l'arma Dopo No Quanta pazienza Che casino Fai Stai incasinato Tutto Dopo vediamo la descrizione Tutto quanto Allora Questa invece Come il sa voce Perché me la devi ancora passare L'arma Che passo dopo Tranquillo Madonna che noiosa Allora questa To Vieni qui Che ne ha tre Prendi To Questa GC Ne ha tre GC 98 Me ne ha passate tre Ora ne vediamo Adesso apriamo solo una parte del vault Che poi dopo le vedremo Tutte Eccoci qua Funziona Avevo sistemato Che No No non va più Una volta si muovevano tutti i pistoni Non va più Mi sistemare Hai fatto bugare tutto Una volta andavo Vabbè La prossima volta Quando poi facciamo vedere alle altre Faremo vedere tutto Questa Griffa No per ultima Eh sì Questa griffa tutto Quindi sti cavoli Credo che manca un cartello Questo è l'ultimo grido Credo che ci fosse Un altro cartello Laterale Ma credo che sia stato Perso Negli amfatti dell'universo Prendine uno Parto Madonna Che sa come cavolo Me le ha segnate Eccolo qua L'all star Perché è chiuso Devi lasciarlo in parte aperto Lo so ma non volevo farci uscire E finalmente Quella di Predatore Peda È una delle prime Che persone Che ho conosciuto Da quando ho aperto il canale Lui si ricorda Senz'altro di me Preda Pensavi che mi fosse ricordato Di te Se riesco ad entrare E invece Non mi sono scordato di niente Ed ecco qui Però ancora 6 SP Va bene Su I cartelli sono qua Come li leggo Aspetti C'è un problema Tecnicolo Aspetta Ah no Ok riesco a leggere In una notte tempestosa Un costruttore Non sapeva cosa fare E ha creato Queste armi Fallate Bello Comunque Una di queste tre griffa Ma non mi ricordo quale Cavolo dai Una di queste tre griffa Prendi la devastator Se è quella che griffa E questa Ok Ok E questa che griffa Non dovrebbe Non dovrebbe Allora lascio aperto Così così ci ricordiamo Eh me ne manca una Mediarma Quale che ti manca? All star? Di gc No Di gc Sì Vai vai Allora qui dentro Non funzionano le armi Avverto già Quindi se qualcuno Qua quando è aperto Vuole entrare Sti cazzi non vanno Allora per andare All'arena Facciamo Slash Warp Proprio così Proprio così Si fa Slash Warp Perché sono Arena PvP E qui ci sono La lista delle arene Andiamo per ora Ce ne sono due Una l'avete già vista Che è quella degli elementi Oggi vi facciamo vedere L'arena PvP Classica Eccoci qua Questa Diciamo il nome Chi l'ha fatta? C'è Ce l'ha fatta The Universe Per chi lo conosce Bene Chi non lo conosce Sti cazzi E ce l'ha fatta Tutta a mano Personalizzata Sul VGA Tutta fatta Tutta fatta Ma che stimoli Io ho visto Scriveremo qua dietro I ringraziamenti Di lui Nascosto dietro L'angolino Perché ci sta E Se no Entrassino Ed entriamo Quei dopo Quei attore Saranno tutte le regole Masticavoli Entriamo Ok Prima facciamo vedere Tutti le altre Adivizia piace tanto Il quarzo No non è che non mi piace Il quarzo Che vederlo sempre Mi dà fastidio Allora La prima Dillo Dillo com'è Quardo Guardo Cazzo di buffo Che sei Comunque L'arma Prima È questa La maci La maci Ma questa è la devastator Una alla volta La maciullatrice No perché non è Non le tengo in mano Sto leggendo con il ventario aperto Allora La maciullatrice Ma no Mi piace sto nome comunque La maciullatrice Mi piace sto nome Mitragliatrice della morte nera Arma che devasta Tritura Fracaccia Le osce del tuo avversario Madonna Arma personale Di Z Più che un'arma Questo è tutto un programma Cioè proprio una roba Aspetta che questa qui Non si legge tutto intero Aspetta Aspetta È vero non si legge Come fai? Si può leggere la descrizione Solo mettere una light in frame Odio Provo Spesso Si può leggere No non si può Fermi Fammi aprire qua Apri Apri il config Apri il config Si non riesco a leggere La descrizione Troppo lunga Eccolo qua Mitragliatrice laser Ad alta potenza Sviluppata Da un gruppo di scienziati La peppa Esti gran cazzi Aggiungerei anche sotto Poi L'ultima arma Quella di preda La devastator Che uno mi spiega Come legge Che è tutto scritto in nero Arma con esplosioni Ascolta Ascolta Arma con esplosioni Ad ampio raggio Config Basta andare dove c'è il bianco Si è giusto Basta andare dove c'è il bianco E la leggi No perché tanto lo tengo nell'inventario E' già bianco Forse un po' di lato Forse funziona Scusa Oh eccola qua Arma con esplosione Ad ampio raggio 3 ore per laser Sta minchiata Comunque Preda questa me la paghi Comunque Allora Prima facciamo vedere gli effetti E poi facciamo vedere Gli effetti su te La maciullatrice Figa Aspetta Non senti il rumore di minecraft Lol Lol Allora Fa laggare un fottio Si vede che è piena di particelle E' pienissima Laga un fottio Usarla Perché si vede che è piena di particelle Però Mi piace Mi piace Molto molto carina 50 colpi L'all star Vediamo un po' Nicola Guarda che carina Aspetta Ehi Sono i colpi I pipistrelli No dai Mi piace Poi con il diamante e il fumino Mi piace il caso delle No Mi piace il caso delle Il pipistrello Guarda che L'effetto è bellissimo Diamante col fumo Anche Infatti E vizio il telefono Si sentirà nel video probabilmente Se sentite un telefono Il mio telefono Che fa interferenza Se l'avete sentito Se l'avete sentito Ok Comunque No si è sentito Comunque niente Questa Mi piace All star Mi piace Mi piace il suono L'ultima Preghiamo Io spero che non sia Da griffo Unipro Ok non griffa Oddio no Mi piace Ok Mi piace Avevo paure Guarda che bello I diamanti che volano Quelli mi fanno cagare Però l'effetto Di quando spari Mi piace Con la pislazzo Allora resta Ma paura Questa qui sarebbe un'arma Ma che bello Ah che sfido Oh no Così è spammabile Spammabile quello P Eh preda Quello è troppo P Mi raccomando E si ricarica troppo in fretta Anche quello Si si ricarica nel secondo Ma nonna preda Preda non va bene Tu vuoi vincere facile Su un altro server Ok ma Se la vorrai qua nel suo server La di potenziamo un po' Ma di un bel po' direi Ok Ora Si vesta lei Si mette il kit Vacca Kit Facciamo il kit No il vacca l'abbiamo già fatto Voglio il kit porco Ecco Voglio il kit Il vacca è porco Voglio il kit porco C'è il mucca e pollo Il vacca è porco Ecco il kit maiale Pronto Ci hai messo Allora Iniziamo con la mitragliatrice Io ho paura Già tolto Io ho paura Io sono l'acca Ha tirato un lago Madonna Da pozioni Nausea Wither Ho tre cuori quasi E ho una protein diamante Uno comunque Refullati di nuovo Monna fa un male del Cristo Perché io si scrive così E pronto? Un colpo? Un colpo Ah non si avvicini troppo lei Ecco L'ho sbagliato tasto Minchia Tu cuore e mezzo Ma ha tolto È spammabile No 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 Vai Non è a lungo raggio Non è a lungo raggio Me non è a lungo raggio Puttana Ma che cazzo di te non fa st'arma È un po' OP Non vorrei dire Ma è leggermente OP Non vorrei dire È spammabilissimo E anche Anche la tua sarà deopata Nel nostro sacco Sì Dove resta l'armatura? Mi dì arresta l'armatura Sono ancora in combattimento Mi dì arresta l'armatura Lei ha fatto che in combattimento Non posso lanciare le cose Sti cazzi che vuoi E l'OP È che cazzo Madonna però Spottrà mica Scusate Ho un cazzo Preta Ah sì Ecco vai Preda ho paura Ma sai da che passa Al crear lag Ma sti cazzi Ma si può perdonare E ti ho tirato un colpo Corri Preda Hai messo danno multiplayer 125 Ma sei scemo Corri Di vizio Corri Ma sarà fattibile un'arma che fa 125 danno multiplayer Fatti ma fatto malissimo Da anche Wither Da lentezza e blindness e oscurità Ma te sei fuori Cioè bellissima come arma eh Ma te la depotenza Sì ma questa qui è una cosa troppo OP Dai veramente sarà Non è passato più Passato al crear lag Pronto David Dai non sei Fanculo Eh cip 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 È bellissimo Stai fatto in piccita No è veramente piaciuto anche a me Perché mi ricordo di te Me ne avevi passati un tot Erano la maggior parte E cambiate leggermente Le armi di default Me lo ricordo Questa invece Le avevi cambiate più delle altre E allora te l'ho messa volentieri Anche la tua Due secondi Sembra di spam Eh lo metto C'è di ricarica Perché è poppy Invece quella La mitraillatrice Vediamo La mitraillatrice è bella Mi fa laggare troppo Quanti Fa vedere Maciullatrice Fa vedere Maciullatrice Non si chiude Maciullatrice Invece la sua si ricarica Dopo un po' Sai Ma non è neanche troppo Spammabile Già non ha neanche troppi blocchi Eh però Quattro secondi Ma sai cosa È rompimento della Glutton Secondo me Crea un po' di casino Tra l'altro Ne spawner Fa un po' di lagguito Comunque Bene ragazzi Spero che questo video Possa essere piaciuto Oggi mi ha fatto vedere Altre delle tre armi Che mi avete passato Quindi non pensate Che non le farò mai vedere Intanto ho mai inventato su LOL Mi raccomando Lasciate i pollici Mi ha piaciuto questo video Di non la sala Se non mi è piaciuto questo video Ah se volete aggiungerci Anche su LOL Che ne dici Ci tanto non accetti Non accetti Se volete aggiungerci Facciamo qualche Guarda che io Ho la lista pieni cipiene Vabbè Usiamo gli smurf Giusto anche quello Però tanto non lo sa Nel nome dello smurf Beh ci dicono Sotto il nome di LOL Giusto E vero anche quello Vi si aggiunge Magari facciamo La vita lì Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate i pollici Sì Vi saluto il video Commentatelo Condividerlo Comunque Anche al cesso Vedi la sa E per il momento Possiamo dire Che è Fidelità Apertura Che cazzo Ho rotto qualcosa Cos'hai rotto Una Una barriera Cioè è bello Entra una volta Di 40 anni Entra e fa danno Eccola qua Cioè veramente Sarà fattibile Io questa che la reporto L'ho già detto Poi la reporto Ciao me ne vado a vedere Sì Grazie per la visione!